Poi andiamo invece nella versione un po' più tutta dove c'è il pantalone sempre cavallo sceso micro riga marrone e blu da abbinare alla giacca così oppure a una giacca sempre formale come quella in principe di Galles solo che in tessuto blu e guardate anche il micro dettaglio di avere questo tweed anche sia nella toppa del bottone che nel collo. La giacca sempre con le micro top e l'imbastitura la possiamo abbinare comunque anche al suo pantaloncino tweed quindi il tweed che è rifinito nella giacca mi completa anche questo pantalone può diventare anche questo una versione molto elegante da abbinare al tutto blu giacca e maglina oppure anche al body o un eventuale camicia. Sempre tutta andiamo in un semplice pantalone blu con la felpina col cappuccio quindi anche per uscire una frescura serve anche come giacca giubbino con le cuciture come vedete a rovescio a reglan e sotto mettiamo un body rigato blu tutto blu ovviamente questo body lo possiamo proporre anche con la giacca e il suo pantalone blu quindi così così e il body il body rigato non dimentichiamoci della nostra consueta spruzzata del profumo al cashmere ciao a tutti e buona giornata ciao